Hauser ricorda i volontari scomparsi a causa del Covid-19, traccia il bilancio dell'attività svolte durante l'estate nell'ambito dell'emergenza a caldo e attiva i suoi volontari per un altro importante servizio, l'attraversamento davanti alle scuole, a fare punto sulle tante iniziative dell'associazione, il presidente Claudio Dossi. Abbiamo consegnato due targhe ai familiari e ai parenti di due nostri volontari, Panzeri Giulio di Suello e Panzeri Augusto di Lecco, perché abbiamo voluto ricordare questi nostri due volontari che sono stati colpiti dal Covid-19 e questo è un segnale di attenzione a tutti i nostri volontari, è un ricordo sperando e augurandoci che non succeda più. Si chiude un'estate che vi ha visti impegnati sul fronte dell'emergenza a caldo. Abbiamo garantito i servizi di accompagnamento, di trasporto sociale verso ospedali, verso studi, abbiamo consegnato medicine, abbiamo consegnato spese, insomma tutte le cose che solitamente la nostra associazione si prodiga di fare in tutto il territorio e la provincia dell'Ecchese. Abbiamo fatto in questo periodo circa 8.000 telefonate sociali a 1.230 persone anziane, 3.160 accompagnamenti di trasporto sociale, abbiamo fatto 128 spese, 583 sono stati i pasti consegnati e abbiamo fatto 72.000 chilometri. Questo dimostra che la scelta che come associazione abbiamo fatto insieme all'ATS è una scelta giusta, vuol dire perché risponde a un bisogno che esiste e che dà anche una sicurezza a tutti i nostri anziani del territorio della nostra provincia di Lecco. Dall'Auser un appello a tutti gli automobilisti, rallentate in prossimità delle scuole e fermatevi per far attraversare i volontari e i bambini in sicurezza. Auser a Lecco garantisce accompagnamento da un marciapiede all'altro in tutti gli otto plessi scolastici, abbiamo per questo 36 volontari che tutti i giorni per quattro volte al giorno presidiano fuori dalle scuole. Ora l'appello che noi vogliamo fare è che quando gli autisti delle auto stanno per approcciarsi da quelli che sono le strisce pedonali, noi chiediamo in sostanza di rallentare e appena vedono i bambini sul marciapiede ci si deve fermare. Dobbiamo proteggere il futuro e noi dobbiamo sapere che i volontari di Auser che stanno facendo questo servizio sono lì proprio per proteggere questo futuro e dobbiamo avere rispetto per loro. Solo così io penso una comunità cresce insieme in modo armonioso.